buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 4 gennaio 2021 siete sul canale 17 di fan tv e questa è occhio ai giornali abbiamo già selezionato per voi le pagine delle notizie sui quotidiani il resto del carino il corriere adriatico che vedremo tra poco prima diamo uno sguardo al santo poi vediamo anche le previsioni del tempo perché ci sono delle novità oggi è la santa angela da foligno la beata angela da foligno il sole sorgerà le 7 43 tramonterà le 16 46 allora adesso andiamo a vedere il tempo dunque il tempo per la giornata di oggi come vedete dal bollettino della protezione civile delle marche sarà irregolarmente nuvoloso con isolati piovaschi durante la notte al primo mattino lungo la costa per quanto riguarda la giornata di domani ed è qui che vorrei soffermarmi un attimo eccolo qua il tempo che prevede dalla tarda mattinata di domani deboli diffuse precipitazioni anche a carattere di nevoso sulla nostra catena penninica ma anche insomma verso i 900 metri vi farei un salto anche su trebimeteo.com questa è la giornata di domani vedete come già qui nella mattinata sono previste deboli nevicate insieme a mista pioggia sarà prima pioggia poi neve insomma più o meno comunque la situazione come vedete è questa andando al giorno dell'epifania che è una giornata di festa eccola qua la giornata si apre in mattinata con un po di pioggia sulla costa anconetana e nell'entroterra e poi il pomeriggio ancora aumento della nuvolosità qui parliamo del 6 di gennaio 6 è una giornata di festa poi l'arrivo della neve a 400 metri sul pesarese in alto vedete ma anche se poi farei proprio un salto ancora più lungo e andrei al 9 che è sabato prossimo sabato prossimo quando le previsioni metteranno neve come vedete a 350 metri quindi insomma anche urbino vedrà per la prima volta insomma una bella nevicata tra sabato e domenica non solo urbino ma anche tutte le zone dell'entroterra della provincia di pesero urbino ecco questa è un po la situazione per quanto riguarda il tempo e adesso andiamo a leggere i giornali allora partiamo dal resto del calino di pesero la prima notizia è quella che pubblica in centropagina con una fotografia un colpo da un milione di euro in una tabaccheria a soria siamo in un quartiere di pesero una maxi vincita alla tabaccheria 2000 un milione di euro vinti e portati dunque a casa mentre la titolo d'apertura è per un tecnico informatico di 54 anni che si trova adesso ricoverato in ospedale con il covid che però fino a qualche giorno fa la pensava in maniera diversa era il cosiddetto negazionista cioè pensava che tutta questa pandemia fosse una messa in scena ora capisco però dice lui prima rifiutavo di accettare l'allarme lo sport la vl che sfiora l'impresa contro la corazzata armani adesso sfida cruciale per la coppa e poi vaccini la profilassi le rsa restano in attesa prima c'è l'intesa con i medici di base mentre sul fronte dei bollettini restano alti contagi 167 in provincia di peso urbino 5 sono i decessi nelle ultime 24 ore e poi lo strano lunedì arancione oggi lo ricordiamo siamo in zona arancione ma solo per la giornata di oggi domani si torna di nuovo in zona rossa ed ecco le ipotesi da giovedì in poi poi si parla invece del volo fortunato di una 26enne che da Londra è riuscita a tornare a Pesaro e di taglio basso sempre dalla prima del Carlino rissa tra ubriachi a colpi di asce e macete è successo in via Solferino coinvolti romeni e moldavi quattro i denunciati intanto sempre dalla prima Mario Nicolini l'ultimo saluto del mondo visse oggi il funerale dell'ex mobiliere dirigente biancorosso il ricordo di Amadori e di Becchetti e adesso il Corriere Adriatico invece zona colorate stretta del governo titolo d'apertura indice RT più basso per le soglie di transizione sarà arancione a quota 1 e rossa 1,25 le marche dunque sono a rischio vedremo tra poco come probabilmente verrà abbassato un po' l'indice attraverso il quale poi si deciderà se diventare arancioni oppure rossi diventerà arancione chi arriva a quota 1 adesso invece è a 1,25 verranno un po' abbassati questi limiti lungo dunque peccato VL invece il sogno era ad un passo questa è la fotonotizia del Corriere per il basket a lungo in testa perde a Milano 97 a 93 non risponde più al telefono anziano trovato senza vita a San Lorenzo in campo fuoco in mansarda signore di 84 anni a Pesaro salvata dei pompieri e poi per il nuovo ospedale a Muraglia la regione conferma i 16 milioni la politica con l'intervista a Mangialardi un solo PD e Movimento 5 Stelle decida cosa vuole fare un partito e basta Mangialardi mette a frutto la sconfitta dice non più divisioni hanno indebolito il PD il capogruppo Demi in consiglio regionale batte steccati allarghiamo il perimetro della coalizione nel suo teorema della ripartenza c'è spazio per il congresso regionale e per i 5 Stelle ma chiarissero dice Mangialardi ai 5 Stelle chiarissero da che parte vogliono stare a Fano Sassonia sogna il waterfront caccia all'idea da 15 mila euro pubblicato il bando per il concorso del lungomare scade il 14 di maggio la scelta dopo la fine dell'estate e poi ad Urbino sono stati trovati dei dolci gettati via nel cassonetto dei rifiuti la Foschi dice si attivi la rete di raccolta per i bisognosi insomma per non sprecare nulla e adesso nelle pagine interne dei nostri quotidiani a pagina 2 vi segnalo questo articolo del Corriere Adriatico dove si parla appunto di questo abbassamento delle soglie per decidere come colorare le varie zone intanto due giorni in giallo il 7 e l'8 e poi dopo si vedrà perché appunto ci sono queste valutazioni ancora in corso ma una considerazione sembra ormai certa dal 7 gennaio non ci sarà un tana libera a tutti con le festività agli sgoccioli anche le misure restrittive del DPCM avrebbero dovuto allargare la presa ma l'accelerata nei contagi ha imposto un supplemento di riflessione allora che cosa succede? succede che se adesso si passa in zona arancione con l'indice di contagio RT a 1,25 da domani si arriverà in zona arancione si andrà in zona arancione con un indice RT1 quindi le marche sono veramente lì ad un passo mentre in zona rossa adesso ci si va con l'1,5 da domani ci si andrà con l'1,25 e questa è un po' la valutazione che verrà fatta venerdì insomma nella cabina di regia convocata per il timing che deciderà appunto queste nuove fasce di rischio intanto insomma siamo in zona arancione oggi anche se poi nella giornata di ieri che eravamo in zona rossa bastava fare un giro comunque chi aveva la possibilità con l'autocertificazione di fare un giro in mattinata anche lungo le strade io mi riferisco a Fano dove ho fatto per motivi di lavoro un'uscita, un'oretta al mattino poi sono rientrato ma insomma ho visto che sembrava più una domenica ecologica che una domenica di zona rossa insomma presente le domeniche ecologiche quando tutti si improvvisano runner con camminatori con scarpette da ginnastica e tutta e quant'altro ecco sembrava più una cosa del genere ma comunque allora questa è un po' la situazione in questi giorni intanto l'incidenza dei positivi nelle Marche è al 31% Pesaro va verso quota 10.000 attenzione ai pronto soccorso ieri 361 positivi su 1.138 tamponi cresce il numero dei pazienti in osservazione allora la situazione sanitaria qual è nella nostra regione? parlano i numeri nelle Marche alla soglia dei 43.000 positivi abbiamo superato le 1.600 vittime e i numeri salgono velocemente l'aspetto positivo è attenzione che terapie intensive semi intensive continuano a mantenere gli stessi pazienti dunque le variazioni sono minime però abbiamo 45 persone in osservazione all'interno degli ospedali ci sono 45 persone che sono lì ferme ai pronto soccorso di cui 232 ospiti anche nelle strutture nell'RSA le famose case di riposo insomma in buona sostanza dunque i numeri non scendono come scrive appunto Andrea Taffi sul giornale di oggi intanto va detto lo scrive anche vedete sul il Corriere Adriatico soltanto oggi in zona arancione cosa si può fare cosa è vietato allora lo ricordiamo velocemente nella zona arancione oggi i negozi saranno aperti fino alle 21 mentre bar e ristoranti sono chiusi ma c'è il sì la possibilità di asportare il cibo fino alle 22 e il sì alla consegna a domicilio anche lunedì 4 sarà possibile quindi oggi recarsi a fare visita a parenti ed amici ma non più di due persone dentro la propria regione questo è quello che succede poi andiamo sull'altra pagina del giornale questa è la fotografia la notizia che è la chiacchierata l'intervista che Roberto Damiani del Carlino ha fatto con Daniele Gidi 54 anni tecnico informatico in tribunale sposato papà di un figlio e che abita a Fano ora Daniele Gidi così come tante persone era convinto che insomma il covid-19 fosse un'influenza e poco più e le immagini proposte dai telegiornali erano solo retorica del potere in realtà poi che cosa è successo si è preso l'influenza si è preso il covid è stato ricoverato è ricoverato e adesso ha capito ha visto con i suoi occhi che la situazione in realtà era non era come se la immaginava lui nella sua testa tant'è che adesso sta cercando dice lui di capire il perché rifiutasse di accettare l'allarme per questo covid-19 forse dice lui non consideravo la gestione dell'emergenza o meglio non condividevo la gestione dell'emergenza quindi l'aveva messa un po' come una sorta di ribellione interiore pensavo che ci fosse un altro modo di risolvere questa situazione e quindi mi portava a non dare reale importanza alla pandemia questo è un po' in sintesi ma sull'articolo poi lui spiega bene un po' quali erano le emozioni quali erano le motivazioni per le quali appunto rifiutava e quindi passava da negazionista ecco questo è quello che scrive sul Carlino a proposito di storie e di drammi poi ce n'è un'altra di storia qui di fianco che riguarda la morte di Ermanno Ferri chi era Ermanno Ferri è l'ex imprenditore del mobile e fondatore dello storico marchio Febal Cucine che è morto per coronavirus almeno c'è un punto interrogativo che forse è morto per coronavirus i giorni scorsi o meglio è morto per coronavirus vogliono sapere soltanto i familiari soprattutto Simona la figlia e la famiglia ovviamente dove e perché ha contratto il covid Ermanno Ferri e la figlia appunto Simona aveva cercato di ricostruire gli ultimi giorni di vita del padre e un primo passo avanti c'è stato per fare luce su questa drammatica vicenda che ancora angustia tutta la famiglia dell'ex imprenditore nonché vicepresidente Davis Pesero e la notizia è che il contagio non è avvenuto nella struttura Santo Stefano semplicemente perché Ermanno Ferri lì non c'è mai passato e lo afferma Paolo Lazzari che è il direttore dei centri di Macerata Feltra e Villa Fastigia appunto della Santo Stefano per quanto riguarda invece il problema dei trasporti sapete che dal 7 c'è almeno la ministra Zolina continua a dire che si tornerà a scuola e quindi gli studenti delle superiori dal 7 torneranno a scuola anche se poi la percentuale di coloro che potranno andare in presenza è diminuita dal 75 al 50% c'è il problema il nodo dei trasporti come portare gli studenti da casa a scuola e viceversa allora le scuole sono pronte alla ripartenza insuperabile il limite del 50% però i dirigenti degli istituti sono preoccupati per il clima di totale incertezza dopo il 15 gennaio dicono i presidi c'è il buio si va in ordine sparso nell'organizzazione l'unica certezza sono le mascherine in aula e il distanziamento e sulla questione appunto degli autobus Letizia Francesconi questa mattina sul Corriere Adriatico spiega un po' intervistando Massimo Benedetti che è il direttore generale di Adriabus come si andrà a scuola dal 7 in realtà non c'è nessuna modifica alle corse cioè il servizio è già stato potenziato dunque riprende il servizio dal 7 gennaio con le stesse corse le stesse corse operative quelle che c'erano prima dello stop nazionale della didattica in presenza il 3 novembre scorso e con un servizio che era stato già potenziato soprattutto per alcune tratte di collegamento con Fano e l'entroterra rispetto allo standard iniziale previsto dal DPCM di Conte ora dovremmo riuscire dice Benedetti a garantire il servizio e a soddisfare le richieste intanto sempre da questo articolo del Corriere Adriatico si legge rispetto al periodo precedente prosegue Benedetti sono state aggiunte fermate al campo scolastico quindi quello di Pesero al Pincio di Fano e per quanto riguarda andiamo qua sopra Urbino altre due fermate l'una in zona a giro dei debitori e l'altra a Fossombrone proprio di fronte all'istituto scolastico Donati per quanto riguarda invece qui chiudiamo il covid anche se non del tutto per il futuro ospedale di Muraglia Regione conferma i suoi 16 milioni meno posti letto e costi abbattuti Ruggeri contesta che fino a fatto la vostra sanità diffusa e qui c'è l'articolo che riguarda appunto l'ospedale quello che noi abbiamo sempre chiamato ospedale unico ma che adesso viene chiamato ospedale nuovo di Muraglia Fiamme nella mansarda salva una signora di 84 anni è successo a Pantano in via Gai nella zona di Pantano vicino a via Vincenzo Rossi dopo le 11 di mattina mentre da Pesaro rissa tra ubriachi a colpi di asce e macete sul resto del Carlino tutti i romeni e un moldavo un solo ferito si è presentato all'ospedale dicendo di essere caduto da un muro la polizia però ne denuncia 4 brucia carta in soffitta rischia di incendiare la casa a fuoco anche al parco un incendio ieri mattina alle 11.45 vedete quello che abbiamo detto poco fa in una soffitta di via Gai nella zona di Pantano le fiamme non sono divampate per caso l'anziana proprietaria aveva dato fuoco ad alcune carte in una vecchia vasca da bagno depositata in soffitta poi diga di alberi e rami sotto il ponte della ferrovia foglia quasi ostruito ma nessuno li rimuove sul lungomare invece di Fano parte la corsa alle idee pubblicato il concorso per Sassoni elaborati consegnati entro il 14 di maggio chi vince porta a casa subito 15 mila euro per l'opera serviranno però 2 milioni di euro è stato pubblicato dal comune di Fano questo bando di concorso di idee per il waterfront si chiama così la passeggiata del lungomare ecco finalizzato a riqualificare tutto il tratto di Sassonia e quello di Torrette Ponte Sasso meno botti ma il problema resta nove cani scappati a San Silvestro denunce di smarrimento sono calate rispetto al 2019 solo per le norme anti-covid parliamo invece di servizi sociali si parla di servizi sociali pagina 15 del Corriere Adriatico di oggi nella pagina di Fano storia infinita disagi per l'ascensore rotto un nuovo problema per i disabili nella sede di Sant'Orso basterebbe avere un punto in centro mentre sul sul rinvio dell'apertura delle piste di sci a Frontone quindi parliamo del Catria Natale da record perso sul Catria aperture piste solo il 18 di gennaio un rinvio un'ennesima mazzata i gestori dicono abbiamo bruciato praticamente 10 giorni e poi Beltrami Vittorio Beltrami che vedete qui al centro che il signore dei formaggi che ha partecipato in una puntata di Masterchef ospite della trasmissione lui dice mi ha fatto piacere spiegare il rispetto per la natura la pagina di Fano invece e di Urbino del resto del canino di oggi è sulla sicurezza all'interno dei supermercati in particolare quello di Bellocchi il Fano Center guardie armate al supermarket al Fano Center aumenta l'attenzione per la sicurezza mirata ad arginare i furti pistole solo la domenica e poi un anziano che è stato trovato morto era solo in casa l'83enne Marcello Savelli non dava notizie di sé da giorni una nipota ha chiesto l'intervento del vigile del fuoco parliamo di un decesso avvenuto a San Lorenzo in campo San Bartolo sfrattato la verità in consiglio il 31 dicembre è scaduto il contratto d'affitto della sede dell'ente in via Varsavia la Lega a dicembre ha sollevato il caso con una interrogazione senza però risposta il cacciatore solitario mira alla plastica Gabriele Rossi a piedi o in bicicletta raccoglie rifiuti nelle zone sensibili della città di Pesero qui invece a Valefoglia circola una ricchezza che fa gola penso ad un nuovo polo per la sicurezza dice il sindaco di Valefoglia Palmiro Occhielli dopo l'implementazione delle telecamere delle spy cam sto cercando di sensibilizzare anche i privati andiamo adesso invece sulla pagina di Urbino guardate la fotografia la fotografia è di un bidone della spazzatura pieno di pasticcini e di dolci la foto è stata scattata dai moderati per Urbino e presa a simbolo dello spreco alimentare vedete qui ci sono pasticcini guardate che roba che sono finiti nella spazzatura la Foschi dice la Foschi anzi i moderati per Urbino chiedono alla Foschi di promuovere una rete di raccolta appello denuncia l'assessore risponde noi già vicini come nessun altro alle persone bisognose e poi anche Bruno Bruglioni scusate Bruglioni il virologo plaude alla casa più luminosa d'Italia il professore ha contattato il concettatino di Fermignano autore del rinnovato show e questa è la casa più illuminata d'Italia che si trovava in Via del Carso a Fermignano ha vinto un milione di euro e lui piange di gioia a gran colpo con appena un euro giocato alla tabaccheria 2000 in zona Soria a Pesaro di Fabrizio Marcheselli il fortunato è un uomo di mezza età un giocatore abituale residente in città dice e non è uno già ricco di suo e quindi ieri mattina il signor X pesarese di mezza età scapolo onesto lavoratore uscito di casa un po' stranito dopo aver trascorso una notte agitate insonne sabato mattina infatti ha giocato un euro e ha vinto appunto un milione così gamba spezzata guardate questa fotografia da Pergola sempre dal Corriere gamba spezzata Gesù Bambino il presepe in piazza incustodito atto vandalico insorge l'opposizione gli autori adolescenti hanno però poi chiesto scusa anziano trovato morto in casa a Miralbello l'83enne era autosufficiente forse è stato colto da un malore sul posto vigili e carabinieri a Senigallia invece con l'auto sul ponte 2 giugno ma nel fine settimana solo pedoni sarà carrabile dal lunedì al venerdì potrebbe riaprire già dal 15 di gennaio saranno rimossi i sedimenti nel tratto finale del Misa che attraversa il porto e poi bora bora via alla grande opera di pulizia parte il recupero dello chalet acquistato da un ristoratore all'asta per un milione e cento sessantacinque mila euro sulle pagine sportive soltanto una pagina di sport quella che riguarda la VL VL tutto cuore spaventa l'Armani e sfiora l'impresa la Carpegna Prosciutto a Milano superata soltanto involata dalla capolista decisiva la tripla firmata da Rodriguez a una manciata di secondi dalla fine comunque possiamo dire che la fine è andata bene perché ha vinto Armani 97 contro 93 di Milano e mi pare insomma che la questione sia più che positiva considerando che l'Armani è una signora squadra velocemente per chi si fosse collegato in questo istante alla nostra rassegna stampa vediamo velocemente la pagina del Carlino di Pesero e quella del Corriere Adriatico ecco qui la vedete a colpo d'occhio qui in apertura c'è la notizia del ricovero o meglio di una testimonianza che arriva da un cosiddetto negazionista che però adesso si trova in realtà ricoverato in ospedale dice lui ora capisco un tecnico fanese di 54 anni che è finito in ospedale con una polmonite bilaterale prima rifiutavo di accettare l'allarme a centro pagina avete visto appena abbiamo appena parlato di questa vincita in una tabaccheria di Pesero poi nelle pagine interna del Corriere Adriatico oggi del resto del carino troverete anche il racconto di una 26enne che parla del suo volo fortunato che l'ha riportata da Londra fino a Pesero così sono riuscita a tornare dice lei nella mia Pesero poi restano alti i contagi 167 in provincia 5 i decessi e la rissa tra ubriachi a colpi di ascia e macete qui di taglio basso andiamo velocemente a vedere anche la pagina del Corriere Adriatico sempre edizione di Pesero zone colorate stretta del governo indice RT più basso per le soglie di transizione sarà arancione a quota 1 e rossa 1,25 quindi vengono abbassate le marche dunque si trovano a rischio quindi facciamo cerchiamo di fare i bravi perché altrimenti quella situazione si complica perché dal 7 dopo il 7 l'8 che saranno comunque giornate di nuovo gialle poi si deciderà e non vorrei che si tornasse appunto la zona rossa a centro pagina peccato vuole il sogno era ad un passo e poi la cronaca con un anziano trovato morto a San Lorenzo in campo non rispondeva più il telefono poi una mansarda che è andata a fuoco perché questa signora di 84 anni a Pesero aveva acceso aveva bruciato delle carte in una vecchia vasca da bagno che aveva lì ferma in soffitta e poi si parla anche di politica con l'intervista a Maurizio Mangialardi che dice in sostanza manda a dire al Movimento 5 Stelle che cosa vuol fare visto che insomma c'è la questione da di sistemare per quello che riguarda il centro-sinistra nelle Marche questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia l'informazione invece con la lettura dei giornali torna domani mattina come sempre alle 7 grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per averci seguito